Ciao a tutti, nuova puntata del Fumacupido, Fumacupido risolve, ovvero la domanda se la rubrica in cui voi mi mandate i vostri problemi amorosi e io cerco di darvi delle soluzioni trash, in sostanza io servo come cupido, appunto Fumacupido, oppure per fare un pat pat leggero sulla testa dei poveri cuori spezzati, anche se poi salta fuori che i miei consigli fanno rompere relazioni possibili, amicizie e quant'altro. Io sto andando in ordine cronologico con le mail che mi sono arrivate, i tweet che mi sono arrivati e sono ancora la prima serata quando ho lanciato l'hashtag per far capire quanto mi avete intasato la casella di posta, ok? Le varie caselle di posta. E continuano ad arrivarmi richieste. Questa cosa mi fa piacere perché la rubrica sarà tipo infinita, visto che vi piace e sono contento, tuttavia, ecco, se non vi ho ancora risposto, pazientate perché arriverà anche il vostro momento. Come al solito vi ricordo che per poter far parte della rubrica Fumacupido è necessario mantenere l'anonimato, anche per vostro interesse, e pertanto dovrete scegliere un nickname, Trash, stile cioè. Iniziamo subito. Qualche mese dopo lei l'ha terribilmente frenzonato per mettersi con un altro, ma ormai lo avevo lasciato perdere perché pensavo non poteste nascere niente tra noi due. Sbagliato, cara. Devi puntare sempre. Ultimamente ci siamo avvicinati molto. Ah, usciamo spesso insieme e condividiamo la passione per la stessa musica. Credo di esserci ricascata, ma stavolta credo che sia qualcosa di più serio di una cotta. Vorrei tanto dirglielo, ma sono bloccata da due cose in particolare. Innanzitutto paura che il fatto di essere in classe insieme possa rappresentare un ostacolo per una possibile relazione. Forse si sentirebbe in imbarazzo. No. Cioè, secondo me no. Non è un ostacolo questo. In secondo luogo temo che piaccia ad una mia amica. Ah, anche lei nostra compagna di classe. E che il sentimento sia corrisposto. Una volta lei aveva confessato di trovarlo un bel ragazzo. Io ne avevo semplicemente risposto di pensare lo stesso. Brava. Senza indagare sul perché me lo stesse dicendo. Lui ride e scherza con lei, ma non so se si tratti solamente di un rapporto d'amicizia. Allora, se fosse realmente tua amica, questa qua te l'avrebbe detto. Se ha fatto delle, non dico delle cosacce, ma se ci sono stati delle news da questo punto di vista. Se è una vera amica, appunto. Quindi fino a prova contraria è rapporto d'amicizia. A volte capto dei segnali tra questo ragazzo e altri miei compagni. Che tipo di segnali? Ma non capisco se il soggetto in questione sia io o lei. Ok. Come mi devo comportare? Riuscirò ad uscire da questa epopea trash. È molto trash, cara. Spero di non aver contribuito ad intasare la tua posta. Certo che hai contribuito, ma t'ho risposto. Quindi sei stata una delle prime. Grazie in anticipo. PS, complimenti per il canale. Ti adoro. Un bacione. Allora, amore disperato 98, che situazione è tra Asgri? Innanzitutto. Allora, secondo me, la tua amica si è aperta a te? Tu le hai anche risposto sinceramente? Io agirei così. Se veramente tua amica, lei si è aperta per prima, nel caso fosse successo qualcosa con questo tizio, te l'avrebbe detto. Anche perché, a quanto pare, lei non sospetta del fatto che a te piaccia. A meno che tu non abbia... Cioè, mi sembra di aver capito che tu hai fatto semplicemente una constatazione estetica sul tizio in questione. Cosa che, tra l'altro, sembra aver fatto la tua amica. Quindi tu stai agendo totalmente per viaggi mentali. Un po' come quando pensi che non può nascere una relazione se siete in classe insieme. Scusami, eh. Ma scusa. L'altra tizia, la tua rivale amica, è in classe con lui? E tu pensi che all'amica tua freghi qualcosa del fatto che lui sia in classe con lei per suscitare imbarazzo? No. Sei semplicemente fin troppo pacata. Da questo punto di vista, togli questo ostacolo. Il vero ostacolo è l'amica. Bitch. Il vero ostacolo è l'amica. Però devi capire quanto effettivamente ci sia dell'interesse nella tua amica. Se è semplicemente una cotta a livello estetico o se nasce qualcosa di più. Perché in questo caso io agirei così. Parlane con la tua amica in modo molto frivolo. Del tipo, trova un'occasione per cui puoi fare un commento su questo tizio. E parlane con la tua amica. Vedi come reagisce e studia bene i segnali. Tu capti i segnali. Random. E questa volta, fatti divenire veramente i segnali. Studiali con attenzione. In modo che la tua amica ti faccia intendere realmente se è interessata o meno. Con le amiche, non so in che rapporto sei con questa amica, però se è tua amica stretta, puoi anche fare un po' la bitch della situazione. Senza incorrere in imbarazzo. Ad esempio, fai la classica domanda frivola. E poi aggiungi, ma non è che ti piace, vero? E così capti la sua risposta. Se lei ti risponde, ma no. Anche se pensa di sì, lei ha detto, ma no. E quindi puoi agire. Che brutto consiglio. Come al solito. E poi, in base a come è andata con questa amica, io qualche segnalino al tipello lo darei. Nel senso, sperando che lui capti i segnali, perché mi sembra un po' un farfallone da come lo descrivi. Boh, vabbè. Comunque io ti direi di agire così. Per ora, agisci con l'amica. Cioè, il tipo, lascialo lì. Poi, valuta se ne vale effettivamente la pena di intraprendere una relazione con questo tizio. A me sembra un bravo ragazzo, un po' farfallone, ma non mi sembra una cattiva persona. Più che altro, fatti capire. Cioè, capti i segnali altrui, ma tu ne mandi. Ecco. Quindi, ah, tra l'altro, quando, se avete delle news, scrivetemene in privato come si è sviluppata la situazione. Io voglio sapere se i miei consigli hanno funzionato a chi li mette in pratica. Quindi, agisci così. Parla con l'amica. Studia le sue intenzioni. Se lei ti risponde, oh, sì, sono innamorata di questo tizio. Valuta tu se dirne subito che anche tu hai questa cotta per lui. O se... Valuta tu come agire. Se fossi... Nel caso volessi fare la persona corretta, sarebbe molto mirevole dire alla tua rivale, e nonché amica. Mi piace anche a me. Che cosa facciamo? Vedete? Cioè, vai cercati di trovare una soluzione. Sperando che non accada una follia stile Mean Girls. E vabbè. Fa niente. Quindi, caro... Cara amore disperato 98, fammi sapere. Ciao Matteo. Sono Luisella e ho bisogno del tuo aiuto. Mi sono presa una bella cotta per un ragazzo che fa parte della mia stessa associazione. A volte sembra che io gli interessi. Ho notato chi mi guarda ogni volta che fa una battuta. Spesso mi offre il suo aiuto e nota delle piccole cose. Le hashtag piccole cose. Tipo che ho cambiato i guanti o delle scarpe nuove. Però non riesco a capire se il suo interesse d'amico se vorrebbe qualcosa di più. E soprattutto, non so come far evolvere la cosa. Sono decisamente troppo timida per farmi avanti in maniera diretta. E nonostante io cerchi di lanciargli dei segnali, ho paura che lui non li noti o non sappia come interpretarli. tesoro, noi ragazzi non captiamo i segnali. È quasi unanime questa cosa. Cioè, siete voi ragazze che sapete mandare segnali impliciti e farli capire. Però, al 99% noi maschi non ci arriviamo. Cioè, troppo impliciti. Non va bene. inoltre, se la cosa non dovesse andare bene dovrei continuare a vederlo circa tre volte a settimana e a frequentare i suoi amici visto che sono anche amici miei. E la cosa mi mette ansia. Non è che posso dire se va, va. Altrimenti me lo dimentico. Ti prego, aiutami tu con la tua maestosa saggezza. Allora, cara Luisella, va bene. Hai l'ansia di vederlo tre volte a settimana nel caso vada male. Sì, ma tu lo vedi comunque tre volte a settimana e stai male per questo tizio. Quindi, che te frega sei comunque in ansia nel senso. Cioè, io sono molto molto schietto su queste cose. L'ansia ce l'hai comunque. È vero che peggiora nel caso in cui vada male questa cosa. Però, a parte che lui ti ha fatto dei complimenti per i guanti e le scarpe. Allora, lui dovrebbe o non è interessato alle donne. Stereotipo, vabbè. Oppure, lui dovrebbe farti dei complimenti. Magari, fa dei complimenti un po' così, un po' un po' campati per aria per attirare la tua attenzione. Non lo so, non lo so. Fatto sta che tu ricambi con dei complimenti e, 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 dovresti farli anche tu. In modo che, ma non quando te li fa lui. Faglieli out of the blue. Cioè, totalmente a caso. Ha un bel taglio di capelli. Dì, oh, ti sei tagliato i capelli, come stai bene con questo taglio di capelli. E poi, senti me, senti me. Gli fai questi commentini come quelli che fa lui, però, in tono subdolo, come al solito. Praticamente, li insaporisci con piccole puntatine con piccole puntatine trasgri. Oddio, non si è capito niente. Vabbè, del tipo, come stai bene con questo taglio di capelli. Ti rende ancora più attraente, ti rende ancora più bello, ti rende ancora più carino, ti si vedono di più gli occhi, non lo so, inventati una cagata. Però, proprio, ogni complimento che gli fai, che deve essere spontaneo, naturalmente, cerca di costruirlo in modo da fare un complimento anche a lui a livello estetico. O, se non a livello estetico, a livello emotivo. Non lo so, lui dice una cosa particolarmente interessante e intelligente, faglielo notare, dicendo, però, puntandolo non su che cosa interessante hai detto, ma, ad esempio, cavolo, mi piace proprio come pensi. Eh, devi studiare bene i complimenti da costruire. Lui, invece, sembra proprio un farfallone, anche lui. di solito noi uomini siamo molto espliciti quando siamo interessati a qualcuno. Quindi, probabilmente, lui è una persona timida e ti ha fatto dei complimenti perché è interessato, ma può anche non essere così. Quindi, cerca di agire tu per capire dove vuole andare a parare. Se vedi che non va da nessuna parte, eh, cogli il destino. Nel senso, se il destino ti offre delle occasioni per lanciarti e eventualmente dichiararti, lanciati. Anche se sei timida, diglielo con le pinze. Eh, però, eh, oppure, ma digliela tipo mi piaci perché, digliela così, non dichiararti del tipo oh mio Dio, ma dichiarati, se vuoi dichiararti, come, mi piace proprio come pensi, la tua cultura, eh, il tuo senso dell'umor, eh, non lo so, perché ti guarda mentre fai una battuta, no, una cosa così. mi piaci come persona, guarda come reagisce lui e lì capisci. E in caso, poi, hai fatto una mezza dichiarazione che però può essere malinterpretata e in base alla reazione di lui decidi se fare un passettino indietro o un passettino avanti. Fammi sapere. Ciao, Luzella, un bacione. Vediamo chi scegliere adesso. Cuore in tempesta, 01. Ciao Matteo, volevo avere un consiglio da te in merito a un problema di cuore. Quest'estate ho conosciuto un ragazzo che ha la mia età e fin da subito mi è sembrato mostrare un interesse per me. Inutile dirti che anch'io, dopo tutti i suoi chiari segnali, ho cominciato a provare qualcosa per lui. E ci siamo messi assieme, ok. Il problema è che dopo un po' non mi trattava più come appena conosciuti, mi trattava male, con sufficienza, e ci vedevamo sempre meno anche a causa della scuola, finché non è cominciato un periodo di accesi litigi e ci siamo lasciati definitivamente. E aggiungo, per fortuna, oggi avremmo dovuto compiere sette mesi insieme e mi manca sempre di più. Ma perché? Ti trattava di merda, madonna, non le capirò mai queste cose. Nonostante mi abbia bloccato su tutti i social, ma tu cosa gli hai fatto a questo tizio, scusa? Instagram compreso, gli mando sempre messaggi? No! No! Folle! Anche se so che non risponderà mai, per forza che ti ha bloccato sui social, allora no, cosa ha combinato, madonna. Vorrei riavvicinarmi a lui, non fa niente, se lui invece sta con altre ragazze e migliora completamente, ma mi piace troppo. Secondo te come dovrei comportarmi? Sto facendo bene? No, 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 mi spiace, corrente in testa 01, mi dispiace, hai sbagliato tutto, o dovrei seguire il consiglio delle mie amiche e lasciar perdere. Cavolo, finalmente una tizia che scrive a fumacupido che ha delle buone amiche, cioè, che non sono, non fanno, non hanno cattivi consigli, non si mettono in mezzo, hanno detto, una verità grande grande come una casa, lascia perdere, è brutto da dire, ti piace? Non siete stati insieme dieci anni, siete stati insieme meno di sette mesi, allora, è difficile in verità, perché i primi mesi di relazione sono sempre quelli più intensi e poi pian piano si vira un po' nell'abitudine, quando una storia si costruisce diventa più lunga, però bisogna imparare ad amare l'abitudine, invece i primi mesi sono quelli più sconvolgenti, infatti quando una relazione finisce nel picco dell'intensità è molto doloroso, anche se ti passa più in fretta rispetto a una relazione che si chiude dopo svariati anni, però mi dispiace, ma hai reagito male tu, cioè nel senso hai trovato il modo peggiore per cercare di riconquistarlo, perché lui è stato uno stronzo a quanto mi hai detto, quindi in quello non hai assolutamente colpa, il problema è che tu hai agito un po', prendi questo consiglio, cioè questo termine con le pinze un po' da tappetino, magari lui vuole farlo stronzo perché aveva dei problemi con te, litigava te spesso, ti ha mollato, però è sbagliato, cioè cercarlo, se sei confusa va bene, ma non insistere se lui non ti risponde, ma così vale sia per gli uomini che per le donne, cioè con qualsiasi persona che ha un gustato insieme va bene scrivere in un eccesso di nostalgia, ma tampinare quando questa persona stufa ti ha bloccato sui social non si fa, io capisco la tua sofferenza ma lascia perdere, il mondo è bello, è vario, troverai altri ragazzi più interessanti, poi per carità se dovesse tornare da te, va bene, cioè se dovesse ricercarti lui, ma non cercarlo più, l'hai cercato mille volte, basta, se dovesse tornare lui, valuta, il mio consiglio è una minestra riscaldata, fa proprio lo schifo, in ogni caso, elabora bene la fine della relazione, la relazione va elaborata quando finisce, anche quando ti lasciano male, ti lasciano che non te l'aspetti, qua dovevi aspettartelo, se litigavate spesso, bisogna elaborare il lutto, quindi valuta il tuo periodo da sola, per capire bene che cosa vuoi dalla vita, incana le tue energie in altro, e poi, quando ti senti pronta per affrontare una nuova relazione, o quantomeno, conoscere qualcuno di nuovo, ci saranno un sacco di ragazzi in giro per il mondo, alcuni single, alcuni attratti da te, e alcuni molto interessanti, non siamo tutti degli idioti, quindi, lanciati quando sarà il momento, se dovesse tornare lui da te, il tuo ex, valuta bene cosa fare, però, scrivere sui social, che disagio, e vabbè, Heartbreaker01, ci scrive, ciao Matteo, la mia situazione è parecchio trash e incasinata, premettendo che sono piccola, al ginnasio per intenderci, ti racconto cosa è successo, in pratica, a me piaceva da parecchio tempo, una mia amica, anche lei non è etero, e io pensavo di avere delle possibilità, perché stavamo sempre insieme, e avevamo un buon rapporto, fin qui, ok, ma c'è una complicazione, lei andava molto d'accordo, con un'altra ragazza della sua classe, andiamo a scuola assieme, anche se mi aveva rassicurata su di lei, dicendo che non le piaceva, che l'altra ragazza era etero, fatto sta che pochi giorni dopo, mi dice che si sono messe assieme, cosa? io ci sono rimasta parecchio male, e ci te credo, ma ho sopportato, poi però lei, accendiamo la luce che siamo al crepuscolo qua, che disagio, no, troppo, incanagliamo così, evviva, abbassiamo un po' così, poi però lei, ha iniziato ad ignorarmi, e poco tempo fa, un suo compagno, mi ha detto che lei, non vuole più parlarmi, non so se sia vero, anche se è probabile, allora io ho deciso, ho chiesto a un mio amico di parlarle, e lui mi ha detto che lei pensa, che sia io a ignorarla, anche se io non sono più andata da lei, perché mi ignorava, io ora non so cosa fare, mi piacerebbe recuperare i rapporti con lei, e penso che in fondo mi piaccia ancora, anche se non sono sicura, aiutami tu Matteo Bacioni, PS, adoro vedere i tuoi video, ascoltarti quando parli, cara Heartbreaker01, madò, ma chi è sta qua, che ti tratta così di merda, non fare il tappetino, ma sei fuori, no, non ci siamo, allora, la tua amica, tua amica nel senso, la tua cotta, ha mai mostrato dell'interesse sentimentale per te? Sì, mi sembra, più o meno, stavate bene assieme, avevate un bel rapporto, il fatto che si sia messa con un'altra, non è, non è così devastante, cioè nel senso, non ha sbagliato, ha sbagliato a mentirti più che altro, cioè lei non ha sbagliato, perché non eravate assieme a quanto capito, non eravate una coppia, quindi lei può benissimo decidere di andare con chi vuole, ha sbagliato a dirti una bugia, a dirti che non erano, non c'era un'affinità sentimentale con quest'altra ragazza, che per carità magari è vero, magari è vero che non c'era, magari è vero che quest'altra ragazza diceva di essere eterosessuale, e poi ha scoperto di provare una cotta per questa tua fiamma, quindi non è neanche detto che abbia mentito, raccontata così sembra che abbia mentito, e non va bene, da quello che racconti sembra una trasciata, ma può essere anche banalmente un malinteso, oppure può essere che lei ti eviti, ma che abbia detto al tuo amico, di una bugia, ovvero che in realtà sei tu che ignori lei, non so perché, valuta se è necessario recuperare i rapporti ora, allora va bene recuperare i rapporti, ma se stai vivendo questa confusione interiore, agisci egoisticamente, perché la tua amica per certi versi ha agito egoisticamente, quindi valuta quello che va bene per te in questo momento, ti farebbe bene se tu rientrassi in contatto, allora stai peggio a stare senza di lei, o al pensiero di essere ancora sua amica, con la consapevolezza che lei è con un'altra, valuta questo, prenditi un periodo di riflessione, valuta, alla risposta, segue un'azione, se senti che questa cosa può anche non darti fastidio, lanciati, dì chiaramente, guarda c'è stato un malinteso, io sono venuto a sapere questa cosa, in verità io non ti ignoravo, io ti ignoravo perché tu ignoravi me, ma non ci siamo capite, ciaoone, se invece valuti che stai meglio da sola al momento, stai meglio da sola, e in caso recuperai rapporti quando sei più tranquilla con te stessa, senza queste influenze, senza questi trip mentali, fammi sapere come è andata, startbreaker01, io ti mando un bacione, ciao, facciamo l'ultima, anche se ho parlato per 20 minuti, una mail un po' corta, non ci sono mail corte qua ragazzi, ma che vite avete, devastante, qua, allora, Electra Love 00, allora, ciao Matteo, mi appello alla tua puracissima sapienza illuminata, contando ad ottenere una risposta trash, ai miei problemi, non meno trash, sono innamorata ad una ragazza, che per mantenere il livello di trashaggine, chiameremo C, come in ogni posta del cuore che si rispetta, io ti amo già, lei pare lo sappia, ed anzi, ho tutti i motivi per credere che ricambi, nonostante io, quanto lei, dubito avremo mai il coraggio di dichiararci a vicenda, il problema più che altro, è il fatto che in questo momento, mi trovo in un'altra relazione, anche abbastanza seria, e non riesco a trovare il coraggio, di mettere un punto a tutto per buttarmi, ne so se lo dovrei fare, per lei, a sigla che fa eccessivamente PLL, tra l'altro, ormai non provo più molto, ma il timore di ferirla è troppo, e anzi sono convinta, che io stessa ne uscirei distrutta, mi appello a te dunque, ne può valere la pena, cosa ne pensi, love, tra parentesi, Casey, levate, Electra Love 00, cara Electra Love, sei in una situazione, anche tu, mamma mia, mai problemi semplici, la tua ragazza, da come ne hai parlato, soffrirà a prescindere, è brutto dirlo, ma è così, perché, se stai con lei, pur non amandola più, stai male te, inconsapevolmente, ferisce anche lei, perché figurati se lei non lo nota, e figurati se lei non ci rimane male, dal fatto di, che tu cambi completamente, atteggiamento nei suoi confronti, anche a livello abbastanza superficiale, quindi, devi capire, se effettivamente, questo amore, che provi, cioè, questa relazione seria, effettivamente è un momento di stasi, nel senso che hai dei dubbi, o se sei certa, che di non amarla più, perché se non l'ami più, eh, ti conviene lasciarla, a prescindere dalla, 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 dalla decisione che compi, cioè, sia nel caso tu volessi, eventualmente, buttarti per, eh, dichiararti a quest'altra ragazza, e sia nel caso tu, non volessi farlo, al momento, però, prima, di gettarti in una nuova relazione, studia quella che hai già, sei in un periodo di stasi, o sei in un periodo che veramente, il cuore non ti batte più, perché se è la seconda opzione, a prescindere, devi mollare la tua ragazza attuale, perché se no, la ferisci inconsapevolmente, secondo me, se invece, senti che, sei ancora confusa, aspetta, a fare qualsiasi azione, eh, ti sconsiglio, i periodi di pausa, perché sono la peggiore invenzione del mondo, e non servono assolutamente a nulla, ma ti consiglio, di riflettere tanto, sulla relazione che stai già vivendo, perché se questa tua fidanzata, fidanzata, è cotta, folle, per te, e, ci hai un po' di problemi, per le mani, se invece, se però non sei più innamorata, tu per prima, ne sei convinta, molla, molla, per quanto riguarda, l'altra fidanzata, perché, la tua fidanzata morirà, morirà no, morirà di depressione, ecco, per il momento, però, se non è dopo, è adesso, se non è adesso, è dopo, cioè, è meglio essere onesti, sinceri, le dimostri così, di volerle bene, nell'essere sincera, non nel mentirle, nel pensare a un'altra, mentre stai con lei, no, è proprio una questione, di onestà, lei, ti chiamerà anche stronza, ti chiamerà anche bastarda, ti chiamerà, ti darà le peggiori cose, i peggiori nomignoli, perché ti ama, e quindi, ci rimarrà di merda, ti dirà le peggiori cose, ma poi capirà, che questa cosa, che hai fatto, in verità, l'hai fatta, eventualmente, proprio perché le vuoi bene, ovviamente, è una decisione da fare, nel caso tu, non sia più innamorata di lei, per quanto riguarda, l'altra fidanzata, valuta se ne vale la pena, ma è una cosa, che devi valutare, dopo, dopo, aver valutato, la tua attuale relazione, secondo me, fammi sapere, cosa decidi di fare, io ti auguro, ogni bene, ti saluto, Electra Love 00, in caso, tu abbia fatto una scelta, riscrivi al Fumacupido, per come agire con C, e niente, io saluto, tutti voi, continuate a scrivermi, i vostri problemi trash, io li risolverò, perché Fumacupido, risolve sempre, a modo suo, io vi saluto, un bacione, e alla prossima, ciao ciao,